Questa sera, cari concittadini e cari concittadini, entriamo negli anni venti del nuovo secolo. Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi. Nella nostra vita e nella società, desidero anzitutto esprimere a tutti voi l'augurio più cordiale per l'anno che sta per iniziare. Si tratta anche di un'occasione per pensare insieme al domani, per ampliare l'orizzonte delle nostre riflessioni, senza naturalmente trascurare il presente e i suoi problemi, ma anche rendendosi conto che il futuro in realtà è già cominciato. Mi è stata donata, poco tempo fa, una foto dell'Italia vista dallo spazio. Ve ne sono tante sul web. Ma questa mi ha fatto riflettere perché proviene da una astronauta, adesso al vertice di un paese amico. Vorrei condividere con voi questa immagine. Con un invito, proviamo a guardare l'Italia dal di fuori, allargando lo sguardo oltre il consueto. In fondo, un po' come ci vedono dall'estero, come vedono il nostro bel paese, protesso nel Mediterraneo, è posto, per geografia e per storia, come uno dei punti di incontro dall'Europa con civiltà e culture di altri continenti. Questa condizione ha contribuito a costruire la nostra identità, che è sinonimo di sapienza, di genio, di armonia, di umanità. È significativo che nell'anno che si chiude abbiamo celebrato Leonardo da Vinci e nell'anno che si apre celebreremo Raffaello e subito dopo renderemo omaggio a Dante Alighieri. Incontro sovente, Capi di Stato, qui in Italia o all'estero. Registro ovunque una grande apertura verso di noi, un forte desiderio di collaborazione, simpatia nei confronti del nostro popolo, non soltanto per il richiamo della sua arte e dei paesaggi, per la sua creatività, per il suo stile di vita, ma anche per la sua politica di pace. Per la ricerca e la capacità italiana di dialogo nel rispetto reciproco. Per le missioni delle sue forze armate in favore della stabilità internazionale e contro il terrorismo. Per l'alto valore delle nostre imprese. Per il lavoro dei nostri concittadini. Vi è una diffusa domanda d'Italia. Abbiamo problemi da non sottovalutare. Il lavoro che manca per tanti anzitutto. Forti diseguaglianze. Alcune gravi crisi aziendali. Esigenza di rilanciare il nostro sistema produttivo. Ma abbiamo ampie possibilità per affrontare e risolvere questi problemi. E per esvolgere inoltre un ruolo incisivo nella nostra Europa e nella intera comunità internazionale. L'Italia riscuote fiducia. Quella stessa fiducia con cui si guarda da fuori verso il nostro Paese deve indurci ad averne di più in noi stessi. Per dar corpo alla speranza di un futuro migliore. Conosco le difficoltà e le ferite presenti nelle nostre comunità. Le attese di tanti italiani. Dobbiamo aver fiducia e impegnarci attivamente nel comune interesse. Disponiamo di grandi risorse. Di umanità, di ingegno, di capacità di impresa. Tutto questo produce esperienze importanti. Buone pratiche, di grande rilievo. Ne ho avuto conoscenza diretta, visitando i nostri territori. Vi è un'Italia, spesso silenziosa, che non ha mai smesso di darsi da fare. Dobbiamo creare le condizioni che consentano a tutte le risorse di cui disponiamo di emergere e di esprimersi senza ostacoli e difficoltà. Con spirito e atteggiamento di reciproca solidarietà. Insieme. In particolar modo è necessario ridurre il divario che sta ulteriormente crescendo tra nord e sud d'Italia. A subirne le conseguenze non sono soltanto le comunità meridionali, ma l'intero Paese, frenato nelle sue potenzialità di sviluppo. Naturalmente, per promuovere fiducia, è decisivo il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche, che devono alimentarla favorendo coesione sociale. Questo è possibile, assicurando decisioni adeguate, efficaci e tempestive sui temi della vita concreta dei cittadini. La democrazia si rafforza se le istituzioni tengono viva una ragionevole speranza. È importante anche sviluppare sempre di più una cultura della responsabilità, che riguarda tutti, dalle formazioni politiche ai singoli cittadini, alle imprese, alle formazioni intermedie, alle associazioni raccolte intorno a interessi e a valori. La cultura della responsabilità costituisce il più forte presidio di libertà e di difesa dei principi su cui si fonda la Repubblica. Questo comune sentire della società, quando si esprime, si riflette sulle istituzioni per infondervi costantemente un autentico spirito repubblicano. La fiducia l'ha trasmessa ai giovani, ai quali viene sovente chiesta responsabilità, ma a cui dobbiamo al contempo affidare responsabilità. Le nuove generazioni avvertono, meglio degli adulti, che soltanto con una capacità di osservazione più ampia si possono comprendere e affrontare la dimensione globale e la realtà di un mondo sempre più interdipendente. Hanno ad esempio chiara la percezione che i mutamenti climatici sono questione serissima, che non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte. Le scelte ambientali non sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell'interesse delle future generazioni, ma rappresentano anche un'opportunità importante di sviluppo, di creazione di posti di lavoro, di connessione tra la ricerca scientifica e l'industria. Torniamo con il pensiero alle popolazioni delle città minacciate, come Venezia, dei territori colpiti dai sismi o dalle alluvioni, delle aree inquinate, per sottolineare come il tema della tutela dell'ambiente sia fondamentale per il nostro Paese. I giovani l'hanno capito e fanno sentire la loro voce, proiettati come sono verso il futuro e senza nostalgia del passato. Ogni società ha sempre bisogno dei giovani. Se è possibile, ancora di più oggi, che la durata della vita è cresciuta e gli equilibri demografici si sono spostati verso l'età più avanzata. Questa nuova condizione impone di predisporre nei confronti degli anziani parte preziosa della società, maggiori cure e attenzioni. Occorre al tempo stesso investire molto sui giovani. diamo loro fiducia anche per evitare l'esodo verso l'estero. Diamo loro occasione di lavoro correttamente retribuito. Favoriamo il formarsi di nuove famiglie. Dobbiamo riporre fiducia nelle famiglie italiane. Su di esse grava il peso maggiore degli squilibri sociali. Hanno affrontato i momenti più duri superandoli, spesso con sacrificio. Fornire sostegno alle famiglie vuol dire fare in modo che possano realizzare i loro progetti di vita e che i loro valori, il dialogo, il dono di sé, l'aiuto reciproco, si diffondano nell'intera società, rafforzando nel senso civico. è una virtù da coltivare insieme quella del civismo, del rispetto dell'esigenza degli altri, del rispetto della cosa pubblica, argina aggressività, prepotenze, meschinità, lacerazioni delle regole della convivenza. Un'associazione di disabili mi ha donato per Natale una sedia molto semplice ma che conserverò con cura perché reca questa scritta quando perdiamo il diritto di essere differenti perdiamo il privilegio di essere liberi. Esprime appieno il vero senso della convivenza. Due mesi fa, vicino a Alessandria, tre vigili del fuoco sono rimasti vittime dell'esplosione di una cascina provocata per truffare l'assicurazione. Nel ricordare per loro e per tutte le vittime del dovere che il dolore dei familiari, dei colleghi di tutto il paese non può estinguersi vorrei sottolineare che quell'evento sembra offrire degli italiani due diverse immagini che si confrontano l'una nobile l'altra che non voglio neppure definire ma l'Italia vera è una sola è quella dell'altruismo e del dovere l'altra non appartiene alla nostra storia e al sentimento profondo della nostra gente. Quella autentica è l'Italia del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini nell'incegno del suo municipio atteso che si mettessero in salvo tutti i dipendenti uscendone per ultimo sacrificando così la propria vita. senso civico e senso della misura devono appartenere anche a chi frequenta il mondo dei social che rappresenta un'occasione per ampliare le conoscenze e per poter dialogare con tanti per esprimere le proprie idee e ascoltare con attenzione e con rispetto quelle degli altri. alle volte si trasforma invece strumento per denigrare anche deformando i fatti sovente ricorrendo a profili fittizi di soggetti inesistenti per alterare lo scambio di opinioni per ingenerare allarmi per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false. Il mosaico che compone la società italiana ha tante tessere preziose penso tra le altre al mondo delle nostre università ai centri di ricerca alle prestigiose istituzioni della cultura ho conosciuto e apprezzato in tante occasioni l'attività che si svolge in questa costellazione di luoghi del pensiero dell'innovazione e della scienza si tratta di un patrimonio inestimabile di idee e di energie per costruire il futuro è essenziale che sia disponibile per tutti che sia conosciuto raccontato condiviso che siano rimossi gli ostacoli e reso più agevole il rapporto tra istituzioni culturali e società e l'accesso al sapere in questo senso un ruolo fondamentale è assegnato ai media e in particolare al nostro servizio pubblico abbiamo bisogno di preparazione e di competenze ogni tanto si vede affiorare invece la tendenza a prendere posizione prima ancora di informarsi la cultura è un grande propulsore di qualità della vita e rende il tessuto sociale di un paese più solido ringraziamo Matera che ha fatto onore all'Italia e al suo mezzogiorno in questo anno in cui è stata capitale della cultura europea con questo spirito rivolgo gli auguri a Parma che con il suo straordinario patrimonio umano e artistico da domani sarà capitale italiana della cultura per il 2020 un saluto particolarmente grato e sentito rivolgo a Papa Francesco Vescovo di Roma che esercita il suo alto magistero con saggezza e coraggio e che mostra ogni giorno di amare il nostro paese a partire da coloro che versano in condizioni di bisogno e da chi praticando solidarietà reca beneficio all'intera comunità civile nel rinnovare gli auguri a quanti sono in ascolto in Italia e all'estero a tutti i nostri concittadini a quanti il nostro paese ospita vorrei rivolgere un saluto particolare a coloro che in queste giornate festive assicurano come sempre il funzionamento dei servizi necessari alla nostra vita comune rivolgo gli auguri alle donne e agli uomini delle forze armate delle forze dell'ordine a tutti coloro che con vari ruoli e compiti operano a beneficio della Repubblica di tutti noi cittadini per tutti saluto Luca Parmitano il primo astronauta italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale impegnato nella frontiera avanzata della ricerca nello spazio in cui l'Italia è tra i principali protagonisti da lassù da quella navicella come mi ha detto quando ci siamo collegati avverte quanto appaiano incomprensibili e dissennate inimicizie contrapposizioni violenze in un pianeta sempre più piccolo e raccolto e mi ha trasmesso un messaggio che faccio mio la speranza consiste nella possibilità di avere sempre qualcosa da raggiungere e questo l'augurio che rivolgo a tutti voi buon 2020 a tutti i i i Grazie a tutti Grazie a tutti